Domani, ricordiamolo, martedì 3 dicembre ricorre la giornata internazionale delle persone con disabilità. E in Urbino, tra vari appuntamenti, come amministrazione comunale abbiamo voluto creare questo spettacolo a Teatro Sanzio alle ore 21, ingresso libero e quindi invito chiunque a partecipare, dove sul palco ci saranno non persone differenti, ma persone che fanno la differenza, artisti particolarmente abili, li abbiamo chiamati, che balleranno, che si esibiranno, che parleranno di sé e magari dei libri che hanno scritto, perché ricordiamo ci saranno Ivan Cottini che ballerà insieme a Bianca Maria Berardi, ma anche Manuel Lanniballi che danzerà la pizzica, un altro gruppo di danza, Manuel De Marc, anche lui fanese, che è l'artista che realizza penne bellissime, Giorgia Righi che ha scritto un libro, poi sarà l'occasione per premiare il gruppo integrato di volley che ha vinto il campionato nazionale e altri giovani che si sono distinti nello sport. Una serata di festa, di riflessione, di spettacolo, perché bisogna abbattere le barriere fisiche ma anche mentali, gli stereotipi che troppo spesso abbiamo in testa. Ma Natale diventa il momento in cui, sì, è bene riflettere anche su questo e lo faremo anche con un appuntamento delle iniziative natalizie che sarà il 14 di dicembre e che sarà interamente organizzata e dedicata alle persone che fanno la differenza, ripeto, con un'iniziativa ad hoc tutto il pomeriggio che vedrà anche Rotary donare un particolare mezzo che è Joelet, che consentirà di percorrere le vie dei presepi anche a chi ha problemi motori e quindi faremo questo percorso tra le vie dei presepi, tra i vicoli e le piole anche con chi ha qualche difficoltà in più per festeggiare insieme il Natale.